Buongiorno da Karim, buongiorno, allora, 9 previsioni di Million Day, da oggi 16 giugno per 5 colpi, come solito, come ho spiegato tante volte, sono 2 coloni da 5, più 5, sono 2, e poi chi vuole unirli tutti insieme, sempre ci sono 8 numeri, per giocare il sistema ridotto, per giocare il sistema ridotto, ok, allora, i numeri sono questi, 4, 6, 10, 26, 39, e poi 2, 4, 6, e 2, 4, 10, 46, 53, ok, dal 16 giugno per 5 colpi, che se qualcuno non sa come funziona il sistema ridotto, te lo fai spiegare in tabaccheria, ci sono delle schiedine da compilare, è facile, perché tanti, tanti persone, tanti, quelli che lavorano in tabaccheria, non sanno come funziona, è importante compilare bene lo schiedino, ok, vi auguro a voi, buona fortuna, e ricordate sempre un gioco, e mai un'altra cosa che vuole dire importante, non direi mai, voglio vincere, la parola, la parola vincere non esiste, devi andare con la testa che non devi pensare di avere una vincita, è sempre un gioco, mi raccomando, perché porta male, ok, questa parola qua, veramente porta male, ricordatelo sempre, non pensare mai che devi vincere, non è bella quella parola sul gioco, non è bella, perché porta male, ok, credetemi, ok, ci sentiamo alla prossima, ciao ciao da Karim. Grazie. 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 Buongiorno da Karim, buongiorno, allora, 9 previsioni di Million Day, da oggi 16 giugno per 5 colpi, come solito, come ho spiegato tante volte, sono 2 coloni da 5 più 5, sono due, e poi chi vuole unirli tutti insieme, sempre sono 8 numeri per giocare il sistema ridotto, per giocare il sistema ridotto, ok? Allora, i numeri sono questi, 4, 6, 10, 26, 39, e poi 2, 4, 6, e 2, 4, 10, 46, 53, ok? Dal 16 giugno per 5 colpi, che se qualcuno non sa come funziona il sistema ridotto, te lo fai spiegare in tabaccheria, ci sono delle schiedine da compilare, è facile, perché tanti, tanti persone, tanti, quelli che lavorano in tabaccheria non sanno come funziona, è importante compilare bene lo schiedino, ok? auguro a voi buona fortuna, e ricordate sempre un gioco, mai un'altra cosa che vuole dire importante, scusate, non dire mai voglio vincere, la parola, la parola vincere non esiste, devi andare con la testa che non devi pensare di avere una vincita, è sempre un gioco, mi raccomando, perché porta male, ok? Questa parola qua, veramente porta male, ricordatelo sempre, non pensare mai che devi vincere, non è bella quella parola sul gioco, non è bella, perché porta male, ok? creditemi, ok, ci sentiamo, alla prossima, ciao ciao da Karim. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno da Karim, buongiorno. Allora, 9 previsioni di Million Day, da oggi 16 giugno per 5 colpi, come solito, come ho spiegato tante volte, sono due coloni da 5, più 5, sono due, e poi chi vuole unirli tutti insieme, sempre sono otto numeri, per giocare il sistema ridotto, per giocare il sistema ridotto, ok? Allora, i numeri sono questi, 4, 6, 10, 26, 39, e poi 2, 4, 6, e 2, 4, 10, 46, 53, ok? Se qualcuno non sa come funziona un sistema ridotto, te lo fai spiegare in tabaccheria, ci sono delle schiedine da compilare, è facile, perché tanti, 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 quelli che lavorano in tabaccheria, non sanno come funziona, è importante compilare bene lo schiedino, ok? Mi auguro a voi, buona fortuna, e ricordate sempre un gioco, mai un'altra cosa che vuole dire importante, non dire mai voglio vincere, la parola, la parola vincere non esiste, devi andare con la testa che non devi pensare di avere una vincita, è sempre un gioco, mi raccomando, perché porta male, ok? Questa parola qua, veramente porta male, ricordatelo sempre, non pensare mai che devi vincere, non è bella quella parola sul gioco, non è bella, perché porta male, male, ok? Creditemi, ok, ci sentiamo, alla prossima, ciao ciao da Karim. Grazie. Grazie.